Musica Telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Tanta paura per una forte scossa di terremoto nel Crotonese. Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato in mare alle 12.24 ad una profondità di circa 66 km. I comuni più vicini all'epicentro sono stati indicati in Isola Caporizzuto, Crotone, Cutro e Bottricello. In un'area compresa tra le province di Crotone e Catanzaro, praticamente l'epicentro è stato di fronte a Isola Caporizzuto. I danni potevano essere nettamente superiori, ma grazie alla profondità dell'epicentro fortunatamente non si sono registrati i danni, almeno al momento, a cose o persone. Il terremoto è stato chiaramente avvertito a Catanzaro. Numerose chiamate sono giunte al 115 dei vigili del fuoco di Crotone. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria e anche a Messina. momenti di panico nelle scuole a Catanzaro, Vibo, Valencia, dove gli studenti hanno abbandonato le aule e si sono riversati in strada. Come già detto non si hanno notizie di danni, lo ha confermato il direttore regionale dei vigili del fuoco. Non vengono segnalati problemi anche da parte della protezione civile. Sicuramente ha da mentare la paura anche la durata della scossa, che è durata circa 15 secondi. Parliamo di un altro terremoto, forse politico, giudiziario, quello che ha interessato il presidente della regione Calabria, Beppe Scopelliti, dopo la condanna a sei anni di reclusione e l'intedizione perpetua dai pubblici uffici nell'ambito del processo Fallara, con il dispositivo della sentenza consegnato al prefetto di Catanzaro, prende il via di fatto la procedura per la sua sospensione. E' partito l'iter che porterà alla sospensione dall'incarico di presidente della giunta regionale di Giuseppe Scopelliti. Ieri il prefetto di Catanzaro ha ricevuto il dispositivo della sentenza che gli è stata inviata dal tribunale di Reggio Calabria. lo ha immediatamente trasferito a Palazzo Chigi, al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro dell'interno e quindi ora si aspetta, nelle prossime ore, la firma del provvedimento del capo del governo e del ministro dell'interno che sospendono dall'incarico per 18 mesi il presidente Scopelliti. Così funziona, insomma, dopo la sentenza il tribunale informa direttamente il prefetto della città capoluogo dove assiede il governo della regione. Informa che nei confronti dell'uomo politico, in questo caso di Scopelliti, la sentenza riguarda il caso Fallara quando Scopelliti era sindaco di Reggio Calabria, purtroppo la giustizia è lenta e la sentenza è stata emanata lo scorso 27 di marzo, dal 27 di marzo il tribunale ha ieri trasmesso ieri 3 aprile ha trasmesso le carte relative al procedimento che interessa Scopelliti al prefetto di Catanzaro. Il prefetto di Catanzaro immediatamente per via mail l'ha trasmesso al Consiglio dei Ministri, adesso il Consiglio dei Ministri ha il potere di sospendere per 18 mesi Scopelliti, è un atto dovuto, non è che è un potere che non può esercitare, si tratta solo di vedere i tempi, i tempi sono comunque molto ristretti. appena firmerà questo decreto di sospensione dall'incarico Scopelliti non potrà più esercitare la carica di Presidente del Consiglio regionale, questo è l'Aggiunta regionale. Questo è l'iter, quindi si tratta probabilmente tra lunedì o martedì, arriverà questa carta firmata Scopelliti a quel punto dovrà decidere se dimettersi o no. Le dimissioni le ha annunciate da tempo, il giorno dopo la sentenza ha detto che sarebbe dimesso, il giorno 28 di marzo, oggi ne abbiamo, ormai siamo al 4 aprile, 5 aprile, perché domenica e sabato e domenico ormai non lo fa, e quindi ancora non l'ha fatto, perché questa cosa francamente non si capisce molto bene, sicuramente nei prossimi giorni con l'arrivo della sospensione dall'incarico Scopelliti presenterà la dimissione, a quel punto bisognerà capire quando saranno le elezioni, quando saranno fissate le elezioni. Probabilmente in Calabria si voterà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, perché probabilmente non si farà in tempo per il voto per giugno, probabilmente non si farà in tempo, probabilmente, poi tutto è possibile quando si tratta della politica, anche l'impossibile diventa possibile. Bisognerà capire come funzionerà anche la giunta regionale, visto che Scopelliti non potrà, essendo stato sospeso, non potrà occuparsi anche dell'ordinaria amministrazione, perché al momento della sua dimissione si potrà operare solo per l'ordinaria amministrazione, quindi chi prenderà il suo posto? Ed è qui tutta la discussione, sarà Salerno, sarà la Stasi, qualcuno dice che la Stasi non può farlo perché non è stata eletta, solo allora si capirà, ci sono tesi che si contraddicono, alcuni dicono sì, altri no, solo dopo le dimissioni di Scopelliti si capirà finalmente, sarà dipanata questa matassa. Restiamo in argomento, oggi a Crotone per partecipare a un convegno medico, c'è stato anche il parlamentare del nuovo centro-destra, Piero Aiello, già assessore regionale nella giunta Scopelliti, con lui abbiamo ipotizzato il futuro della regione Calabria. Piero Aiello a Crotone, chi è Piero Aiello? Ex assessore regionale, attualmente parlamentare nazionale, a Crotone per partecipare da medico a un convegno di medicina, ma con lui non parliamo di medicina, parliamo di politica, parliamo di politica. Bene, c'è stata la sentenza per il presidente della giunta regionale Calabrese, amico di Piero Aiello, che succederà ora? Beh, guardi, intanto volevo precisare il rammarico che ho provato nell'ascoltare la sentenza. Io conosco Scopelliti, insomma, è da anni che si è sempre speso per la propria terra, però credo che in seguito riuscirà a dimostrare le stranità ai fatti che gli sono addebitati. Adesso la situazione diventa veramente scabrosa, perché comunque c'è da approvare in regione la norma che prevede, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il ridimensionamento del numero dei consigli regionali a 30. Anche se non dovesse essere, però di fatto c'è una legge nazionale che li ridimensiona. Non c'è dubbio per questo, però credo che sia obbligo istituzionale di un consiglio prenderne atto e legiferare in merito, quindi credo che ci si sta adoperando, gli ex miei colleghi stanno adoperando per approvare questa legge e quindi rendere il nuovo consiglio idoneo e rispettoso delle norme vigenti. Una volta fatto questo, il Presidente che farà? Si dimette o non si dimette? Al Consiglio dei Ministri ieri è arrivata la notifica che deve essere sospesso dall'incarico. Beh, guardi, queste sono valutazioni proprie del Presidente. Lui ha annunciato... E' amico del Presidente? Ho capito, sì, ma sono decisioni molto molto personali. Lui ha annunciato le dimissioni e credo che sarà conseguenziale. Poi i tempi e i modi credo che saranno dettati dalla sua coscienza, ma lui è sempre stato una persona determinata, quindi credo che valuterà al meglio il da farsi. Che fa il suo partito per il dopo Scopelliti? Come si organizza? Al momento credo che non è un problema di organizzazione regionale, è un problema di riorganizzazione, anzi di organizzazione nazionale. In tempo relativamente breve sono stati creati circa 12.000 circoli in Italia. Questo dice lunga sulla grande attenzione che c'è nei confronti di questa nuova sperimentazione politica. Sotto la guida di Alfano e di Quagliariello credo che si stanno ponendo in essere tutte le situazioni necessarie, tutti gli aspetti organizzativi necessari a che l'NCD possa dire la sua in modo eclatante già a livello di elezioni europee. Ci danno per certo la vostra entrata in Europa con una rappresentanza che va al di là del 5%. Questi sono i sondaggi ad oggi. All'inizio della campagna attuale speriamo di poterli aumentare, quindi siamo fiduciosi e speranzosi di poterlo fare. Scusa se insisto, ma che fa l'NCD in Calabria? Che farà? Lo stesso di quello che fa nel contesto nazionale. Adesso ci sarà da sedersi intorno a un tavolo e ridiscutere tutti gli aspetti organizzativi perché ci saranno elezioni regionali e quindi anche qui si arriverà ad una concertazione con le altre forze politiche del centro-destra per trovare il candidato migliore. Il candidato migliore sarà dell'NCD o di Forza Italia? Questo è difficilissimo oggi poter esprimere un'opinione. Speriamo che sia l'NCD, però poi magari Forza Italia dirà speriamo che sia di Forza Italia. Un altro partito potrà immaginare, speriamo che sia del mio partito, quindi ancora è tutto da discutere. Si voterà a novembre, fine ottobre-novembre. Questo non lo so. Se non si dimette si voterà a giugno, a maggio-giugno. Onestamente a questa domanda non so rispondere, sono il meno adatto perché è un problema giuridico-amministrativo. Una buona notizia per i contribuenti calabresi. Il tavolo massiccio ha disposto l'eliminazione delle addizionali IRPEF e IRAP. Vanno meglio i conti della sanità calabrese? Lo ha verificato l'ultima riunione del tavolo massicci. Il tavolo massicci è quel tavolo del Ministero della Salute che controlla i conti delle regioni che hanno sforato il debito, che hanno sforato i conti e quindi stanno seguendo passo dopo passo il piano di rientro. C'è stata una riunione che significa che i conti nel 2013 sono andati meglio, si è speso di meno. Per cui potranno, a partire dal luglio-agosto 2014, potrebbero essere abbassate le addizionali IRPEF e IRAP. miglioreranno gli stipendi per qualche euro in più negli stipendi dei calabresi. Questo è quello che hanno le trattenute, l'addizionale regionale che è stata aumentata nel tempo. A causa proprio di questo debito, noi in Calabria paghiamo l'addizionale IRPEF più caro e IRAP più alta d'Italia. Adesso dovremmo pagare qualcosina in meno, ma non migliora la sanità e questa è la questione. Il problema è che i tagli che hanno consentito il rientro sanitario sono stati di tipo orizzontale. Hanno tagliato tutto, anche i servizi sanitari di qualità. Anzi, hanno tagliato la sanità. La sanità, i calabresi e i crotonesi che vanno in ospedale la possono vedere, ne hanno sempre di meno. Sempre meno qualità anche di settori importanti, quelli che salvano la vita dei cittadini. I servizi sanitari sempre di meno. L'importante è stare in regola con i conti. La provincia si illumina di blu. Ai nostri microfoni l'assessore provinciale alla cultura, Giovanni Capocasale. La provincia si colora di blu. La sera la provincia si colora di blu. L'iniziativa è dell'assessore alla cultura. Perché avete preso questa iniziativa? Ma dopo il palazzo dell'ONU, dopo il Quirinale, ma in tutto il mondo, tre giorni fa è stato festeggiato e ricordato un problema sociale che è l'autismo. Quindi è stata indetta la giornata mondiale dell'autismo e come segno di partecipazione... Si è tenuto pure a Crotone. Sì, stavo dicendo che anche a Crotone, grazie all'associazione dell'autismo KR, al suo presidente Pino Vrenna, che ha sensibilizzato tutti gli enti, appunto la provincia ha pensato bene di dare anche lei il suo segnale, illuminando di blu, come tutti questi palazzi, monumenti importanti di tutto il mondo, la sua sede. La struttura della provincia. Quindi di sera, dopo le 20, si accende questa luce blu che tende al violetto, ma è voluta perché il viola, nello spettro dei colori, dà la sensibilità della partecipazione a chi soffre. Per cui abbiamo dato ancora una volta un segnale che noi ci siamo e siamo... Se vedete quel segnale, per dire la provincia è con le persone disabili, con gli autistici, come i bambini autistici, in questo specifico grande e importante tema che affligge prima di ogni cosa i bambini che hanno grosse difficoltà di relazionare con l'ambiente, ma soprattutto anche con le famiglie. E naturalmente con tutti gli operatori sociali e tutti i professionisti che in rete danno assistenza a questi bambini. Dobbiamo ricordare un aspetto gravissimo e che stiamo lottando affinché a livello nazionale venga riconosciuto come un'attività da svolgere all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Perché queste associazioni che fanno questa grande assistenza, questi grandi progetti, lo fanno quasi a livello di volontariato, con finanziamenti di privati, con finanziamenti delle famiglie. Quindi deve essere un messaggio forte. Non è un segnale giusto per dare un simbolo alla giornata mondiale dell'autismo. No, è un richiamo a noi, istituzioni, ma è un richiamo a chi deve fare queste scelte nell'ambito della programmazione sanitaria che l'autismo o la sindrome o lo spettro autistico è un problema che avvolge tutta la società civile. Nella giornata di ieri i carabinieri di Rocca di Neto, unitamente personale specializzato delle società di fornitura di energia elettrica, hanno effettuato controlli a circa 12 tra esercizi commerciali e private abitazioni. Al termine delle operazioni di verifica dei contatori di energia elettrica, i militari hanno riscontrato in una macelleria del centro, in via Aldomoro, degli allacci abusivi per bypassare il contatore dell'energia elettrica. Per questo motivo sono stati arrestati i proprietari CF e CN, rispettivamente dell'86 e dell'89, per furto aggravato di energia elettrica. Nel medesimo contesto, arrestato anche BAG, agricoltore del 65, i carabinieri hanno verificato che lo stesso aveva realizzato un allaccio abusivo presso la propria abitazione. Un motopeschereccio della marineria di Catania, che imbarcava acqua e rischiava di affondare, è stato fatto arenare dal comandante alla foce del fiume Neto. I componenti dell'equipaggio stanno bene, hanno collaborato con la guardia costiera e intervenuta per prestare soccorso con mezzi a terra e in mare. Si è anche lavorato nel corso della notte, malgrado le pessime condizioni meteo, per evitare che il gasolio a bordo fuoriuscisse, provocando danni all'ambiente. A Crotone, stamane importante convegno di neurologia. Che lascia a piedi migliaia di giovani, migliaia di colleghi soprattutto. Stiamo trovando difficoltà nelle prime risorse, però anche qui è accettabile il fatto che molti colleghi non hanno avuto pagato le scuole specializzazioni. Noi stiamo provando una transazione al governo, speriamo che venga accettata. Convegno regionale di neurologia, neuroscienze, qui a Crotone. Come mai è Crotone per questa scelta? Crotone perché, innanzitutto, io sono in questo momento il coordinatore e il segretario regionale della nostra società scientifica. Lei è il primario dell'ospedale di Crotone, il dottore Bosco. Sì, e anche perché la neurologia in questo momento è oggetto di una profonda trasformazione e implementazione, per cui il nuovo atto aziendale prevede una immediata attivazione di dieci posti letto. Ma non c'è ancora l'atto aziendale, dottore? Ho detto nelle linee guida. Nelle linee guida, sì. L'atto aziendale prevede l'attivazione di dieci posti letto, anche perché il ministero, le linee guida ministeriali, hanno individuato le patologie neurologiche come prioritari nell'ambito della rete urgenza e emergenza e quindi indispensabili per la salvaguardia e le cure dei pazienti affetti soprattutto da patologie cerebrovascolari. Perché l'unica terapia in questo momento adeguata ed efficace degli eventi acuti cerebrovascolari viene attuata in unità operative specifiche, che sono le stroke unit e l'efficacia è garantita solamente per le prime quattro ore e mezza dall'esordio, allora per cui il ministero nell'ambito delle sue linee guida ha previsto questa realizzazione di queste strutture che garantiscono un'adeguata copertura territoriale. Quindi Crotone è stata identificata nella riorganizzazione che stiamo facendo a livello regionale insieme al dottore Consoli che è quello che ha contribuito a definire le linee guida dei quaderni della salute a livello ministeriale e individuare anche a Crotone una stroke unit che, ribadisco, è l'unica terapia efficace per prevenire morte e disabilità. Possiamo agganciarci a questa proposta e fare in modo che se un collega vuole andare in pensione con 40 anni di contribuzione può farlo se vuole. Questo consentirebbe a molti colleghi, giovani colleghi, di poter accedere al mondo del lavoro. Salvatore Regalino, una vita al servizio della scuola, cultura e istituzioni. Ieri conferenza dedicata appunto al compianto Salvatore Regalino promossa dall'Università Popolare Mediterranea e dal Comune di Crotone. Siamo particolarmente funzionati per non poter presentare questo evento che è importante e di grandi uniti presenti. Oggi teniamo questa iniziativa su Salvatore Regalino. Questa si iscrive nell'ambito delle diverse iniziative che l'Università Popolare Mediterranea sta svolgendo negli anni perché oltre ai corsi, presentazioni di libri, visite guidate, noi stiamo tirando fuori la storia, le opere, la vita dei personaggi che hanno dato lustro al crotonese e hanno lasciato traccia nella nostra realtà. Ovviamente qui accanto a Pasquale Poerio, a Silvio Bernardi, a Carlo Turano, oggi la figura che noi stasera approfonderemo è quella di Salvatore Regalino. Salvatore Regalino, questa figura io riesco a tracciarla con quattro episodi, ruole che lui ha svolto nel corso degli anni. Io voglio ricordare che Salvatore Regalino è stato il primo segretario della Federazione Socialista di Crotone e quindi dando inizio a quella stagione bella all'epoca del Partito Socialista e del socialismo italiano nella città di Crotone. Secondo ruolo che lui ha svolto di grande livello è stato quello di sindaco. Il 1965-66 lui è stato sindaco di Crotone e lì ha fatto iniziare il lavoro dell'ospedale civile di Crotone. Terzo episodio è questo, durante la sua attività amministrativa di sindaco ha fatto costruire, ha fatto provare a costruire il monumento ai Fattori Brandiere. Che cosa ci dice? Che l'uomo non è stato mai solo un amministratore, un politico vecchio stile, però aperto all'innovazione, sempre con quella carica umanitaria che lui ha saputo sempre portare nelle cose che ha fatto. Lui insegnava storia e filosofia e quindi la storia non l'ha mai dimenticata e Fratelli Brandiere. E con questo evento vennerà a Crotone due grandi figure dello scenario politico italiano, Sandro Pertini che allora rappresenta la Camera e Saragat che rappresenta la Repubblica. L'ultima cosa che ricorda il personaggio, diciamo in modo sintetico, è il fatto che lui abbia inaugurato e quindi costituito il primo istituto magistrale a Crotone, l'istituto Gravina, che è oggi un bel istituto, che ha sfornato migliaia di maestre, migliaia di professori da tutto il crotonese. Anche lì quindi Premonitore è un antesignano di grandi conquiste per la nostra terra. Quindi Salvatore Regalino è una figura poliedrica, scrittore, filosofo, attore, non professionista ovviamente, poeta e uomo di scuola e di cultura. Quindi una bella figura che noi ricordiamo e con una mostra, un filmato e questo bel dibattito che si farà e che sarà concluso a Sandro Principe che è l'ex assessore regionale alla cultura calabrese. Domani domenica 6 aprile a partire dalle 10.30 presso la sala conferenza della Croce Rossa italiana di Crotone si terrà il workshop regionale progetto manovre salvavita pediatriche. Nell'ambito di musica e cultura in libreria, sempre domani domenica 6 aprile alle 19.00 presso i locali della storica libreria Cerrelli di Crotone c'era una volta il teatro Canzone con Andrea Giuda, voce recitante, e Michele Scerra, chitarra. Sempre domani domenica sul lungomare cittadino di Marina di Strongoli si svolgerà la fiera della primavera dalle 8 alle 20.00. Lunedì 7 aprile alle 9.00 presso la sede centrale dell'Istituto Gravina di Crotone incontro nell'ambito del progetto diritto alla legalità. Ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone provincia. Si prospetta parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 13 nodi, 16 gradi. La temperatura massima prevista nella città capoluogo, 10 gradi la minima. Ed ora il bollettino nautico del Marrionio. Tempo a vento da suddestra, forza 5 con locali rinforzi e isolati temporali in intensificazione. Visibilità discreta in diminuzione, mare mosso, tendenza, vento da suddestra, forza 5 e temporali. Bene, la nostra informazione per oggi termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento. E le prossime edizioni, arrivederci. Grazie.